Faccio il video al doppiero perché sono in zona isola, non ti inquadro la faccia, non sono Davide la Cerenza Siamo qui al billionaire, amore di tutto Stiamo carburando per il lancio di domani L'annata 2008, notare, 2009 era finito 100 punti Parker, attenzione, doppio per i gnon 100 punti Parker 2008 Chi è il Parker adesso? Non so se mi spiego Scusi, i punti Parker spiegano perché loro sono ignoranti Signor Robert Parker è il wine advocate di punta sul mondo Valuta tutti i vintage di tutti i vini ed ha un rating E il massimo è? Un voto è 100 punti 100 E questo è 100 punti E questo è 100 punti Come Sassicaia 2015 ha 100 punti Sassicaia è un nuovo Ottimo Sassicaia 2015 Stanno facendo i video anche loro Fabio mi dispiace ma sto giro si è nel video Sassicaia 2015 Poi lo apri così con scioltezza senza neanche nonchalance Ovviamente Lo facciamo assaggiare e lo lasciamo in ghiaccio per finire l'aperitivo Dai dai, sì sì perché adesso... Assaggio a lei dottore Grazie Papi, papi Io sono Pigluca Lo tengo io Qua siamo in casa da Isola a Nerviano A Nerviano? Grande Grande Abbiamo 100 punti pari 100 punti Guarda sono 100 punti Fabio non fermi Non fermi Non fermi Non fermi Di solito qua Tutti questi rating Tutti questi testing su Cirole Si è da andare Tutto Perignon a 100 punti Questo è Beverino ma gioco un piacere Di Nerviano vanno bene lo stesso Ok adesso se puoi dire alla telecamera Papi sei tubig Luca Come? Il papi sei tubig Luca Il papi sei tubig Luca Ecco qua Grazie Signori Buona serata Buona serata